Ciao ciao a tutti, è appena arrivato il furgone con la spesa da S lunga ebbene sì, dopo un bel po' di tempo mi sono fatta mandare ancora la spesa da S lunga con l'opzione S lunga a casa perché di solito noi andiamo il sabato a fare la spesa un po' per tutta la settimana o comunque per le cose che ci servono solo che ieri tra una cosa e l'altra insomma c'è stato un po' di movimento qui ieri appunto era sabato a proposito buona domenica all'ultimo momento poi il pomeriggio c'erano delle partite in tv mio marito non voleva perdere, anche io ero un po' affacendata morale ho detto vabbè mi faccio portare la spesa a casa la spesa diciamo di carne, avevo bisogno di un arrosto e di un po' di bistecche era andato la mattina al solitino a prendermele all'emd dove la carne è buonissima mi serviva giusto un po' di altra roba ho approfittato del fatto che insieme a alcuni articoli c'era la spedizione e la consegna gratuita e così ho fatto ma basta chiacchiere qui abbiamo tre sacchettoni il più grande e il più veramente grande e andiamo a vedere un po' cosa ho contratto apriamo la prima busta allora qui abbiamo i biscottini per la kira ecco qua perché bisogna viziare anche i nostri cagnolini pelosi poi l'offerta di cui vi parlavo con le consegne gratuite ecco la consegna gratuita riguardava la linea roberts quindi ho preso, bisognava costare almeno 10 euro di prodotti roberts e io ne ho approfittato perché ho voluto provare questa crema idratante acqua alle rose sensitive studiata per le pelli sensibili eccola qua poi questo è diodorante ecodeo zero gas, zero sali 48 ore con vitamina E questo e questo invece questo è spray, questo che vi ho mostrato e questo invece in versione roll on sempre zero sali, fresco, con vitamina E zero macchie questo qui comodo da portare in borsa quando magari si è costretti a stare fuori casa per un po' di ore poi vedo che mi hanno messo in omaggio questo detersivo eco detergente per lavatrice al fresco profumo di eucalito verde di Chantecler questo è un omaggio i detersivi Chantecler io li trovo veramente fantastici invece poi acquistato mi serviva ho finito il dentifricio per bambini perché quando stanno qui a dormire o comunque stanno qui i miei nipotini hanno il loro spazzolino e quindi si lavano i denti qui spazzolino e dentifricio junior di S lunga alla fragola poi qua mi hanno messo adesso c'è la promozione ogni tot euro di spesa le figurine delle olimpiadi queste me le hanno inserite nella borsa qua tutto impacchettato per bene dovrebbe esserci allora perché è l'ultima volta ma un paio di mesi fa che ho fatto ancora l'acquisto la spesa online di S lunga ma avevano messo in omaggio una birra e mio marito l'ha trovata super buona ed è questa Cosel Lagerdark questa birra qui e quindi gliene ho prese due bottiglie perché mi ha detto se hai occasione ricordati devi comprarla perché ecco qua due bottiglie di Lagerdark mio marito dice che so che è una birra veramente super buona io non sono una grande impietrice di birra dire la verità non la prezzo moltissimo se proprio ogni tanto la bevo bevo la Radler quella mista a lemon soda è quella sì la biricchio però anche lì non è che ne vado proprio pazza pazza secondo pacchetto allora ho preso l'aglio ho fatto una spesa da Fruttivendolo mercoledì ma non sono dimenticata l'aglio che buon profumo questo oddio buon profumo l'aglio però ecco aglio di gobera DOP aglio di bohiera DOP ho preso il cuore di sedano da fare in insalata con le noci un filo d'olio un po' di pepe buonissimo poi questo me l'hanno messo in omaggio anche questo probabilmente quando hanno dei prodotti nuovi vogliono farli assaggiare e le mettono nelle spese online questa bevanda vegetale all'avena senza zuccheri aggiunti adez sinceramente questa non non la conoscevo anche perché non ne facevo in uso però da provare bevanda all'avena all'avena sapete che va bene anche per chi ha dei problemi di sensibilizzazione a certi alimenti allora poi ho preso una confezione di pancetta arrotolata piacentina e due di crudo di parma a marca e se lunga per ogni avvenienza all'anno lì si conserva per un bel po' poi ho preso del burro sempre marca e se lunga perché almeno acquistando i prodotti a marca e se lunga si hanno più punti poi arrivati a un tot di punti noi prendiamo sempre buone benzina da 10 euro che almeno le usiamo poi ho preso questo pezzetto di cacciotta perché non farò la spesa di formaggio perché dobbiamo andare in vacanza e quindi ne ho preso giusto un pezzettino più altri due tre pezzetti che ho ancora i booster di pollo e tacchino marca principe quattro confezioni da quattro booster ciascuna e andiamo all'ultimo sacchettone che bei nodi che fanno belli stretti sarà meglio che lo squarci così do un po' sfogo un po' qualche basso estinto nello straffare scherzo e facciamo prima ah ho preso tre confezioni sì di da tre di polpa mutti uno due la trovo veramente buona e saporita con un bel sapore di coloro fresco poi kinderbrioche pastatina e selunga pane cioc pane più cioccolato non sono anche un pannello non lo faccio aspettare un po' dolce piccante e selunga triangolini di succo di pesca e basta i succhi di frutta e vi saluto velocemente perché è arrivato il marechino ciao un abbraccio un sorriso